L'intelligenza del cuore è amare, ma non in modo passivo, in modo attivo, contribuendo, diciamo, con la propria intelligenza, con la propria cultura, con la propria fantasia, al rapporto amoroso. L'intelligenza del cuore, così l'ha definita il marito e compagno di una vita Raffaele Lacapria e che ha dato il titolo al documentario che racconta la vita di Ilaria Occhini, un ritratto intenso della grande attrice italiana attraverso racconti, ricordi e interviste. È un racconto intimo, non parla infatti solo del suo lavoro, parla anche della sua vita, dei suoi rapporti intimi e affettivi. C'è anche una profonda malinconia che attraversa tutto questo documentario e l'intervista perché si sente, insomma, che è una donna che adesso ha come concluso un suo percorso e quindi questa vita di malinconia rende anche, secondo me, questo film molto particolare e poetico. Il documentario è stato presentato in anteprima a Villa Severi, ad Arezzo, dove Ilaria ha trascorso la sua infanzia assieme all'onno materno Giovanni Papini, che proprio a lei dedicò il brano La mia Ilaria. Forse chi la incontra non la vede neanche bella, per me invece più bella di Ilaria non c'è. Per me è stata importantissima l'infanzia perché poi avevo con mio nonno, che è Giovanni Papini, questo grande scrittore cattolico, un rapporto molto stretto e molto da compagno di giochi. Una serata per celebrare così 65 anni di carriera di Ilario Chini, vincitrice nel 2010 del David di Donatello, per la migliore attrice non protagonista con Mine Vaganti di Ferzenospetec. Che ritratto ne esce? Ne esce di una donna straordinaria, incredibile, grande attrice, grande donna, bellezza immensa, ma questo non so neanche scoprirlo, e una donna con le sue fragilità, come tutti abbiamo, che invece vengono sempre nascoste. E proprio da Arezzo parte una proposta, un festival del cinema e del teatro al femminile da tenere in città abbinato al premio Occhini. Io credo che Arezzo debba omaggiare Ilaria, ma non solo Ilaria, anche tutta la famiglia Occhini e di conseguenza anche sua figlia e Raffaele, con un premio, con un festival, un festival che mette insieme, perché questo Ilaria faceva, l'attrice di teatro, l'attrice di cinema e l'attrice di televisione.